Salve proposiere e proposiere bentornati in questo nuovo video in questo nuovo video siamo su Valentino Rossi The Game oggi continuiamo il campionato siamo a Motegi una delle mie piste preferite e le prove libere le qualifiche sono andate bene parto primo parto primo e vediamo un po come va la gara aspettiamo il caricamento che è molto lungo di questo gioco il caricamento e vediamo un po come va la gara aspettiamo caricamento buongiorno buongiorno e benvenuti alla diretta del gran premio del giappon ok messa a punto messa a punto manuale moteggi moteggi ma no invece c'è delle bombe però proviamo media un miliard ma si dai poi un miliard un miliard scendi in pista prima dentro gazza martello e via 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 partiti l'alto avendo potente e per attraverso attraverso il avendo attraverso attraverso Quarta, quinta, seconda freno motore. 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 No, 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 no. Vai nel lato un po' più tiro E inizio a trovare un lato un po' più tiro Dai Alla prossima E inizio a trovare un po' più tiro Sì, andiamo Primo, bene, il video può finire qui Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace Commentate, soprattutto iscrivetevi E noi ci vediamo